In scena i migliori ragazzi delle scuole superiori di Isemia, selezionati da Salvatore Vincione Guarino, della compagnia teatrale CAST, si esibiranno venerdì sera a partire dalle 21 sul palcoscenico della Sala Convegni della provincia in Confusioni, un lavoro di Alan Eickburn dal sottile umorismo inglese. L'iniziativa è stata patrocinata e finanziata dall'amministrazione provinciale, che l'ha presentata nel corso di un incontro con la stampa. Crediamo nella valenza didattica del teatro, ma non solo, cerchiamo all'interno del laboratorio di formare personalità, di formare uomini che poi si devono confrontare con la società, per cui il teatro è propedeutico in questo, è anche terapeutico per certi versi. Avete trovato qualche futura stela del teatro tra questi ragazzi delle superiori di Isemia? Beh, non si può mai dire, però certamente ci sono ragazzi, forse la maggior parte, che continuerà all'interno della nostra scuola di teatro, per cui evidentemente hanno trovato, cioè noi abbiamo trovato terreno fertile, non si può mai sapere insomma. Lo spettacolo è Confusioni di Alan Eichburn, il tema è la solitudine, ed è anche divertente per certi versi, ma è una comicità ovviamente inglese, non nostra, per cui al tutto al più può far sorridere, però fa anche riflettere perché siamo effettivamente soli, anche nelle relazioni, però non ci esponiamo mai, per cui sembra un tema molto molto convincente e bello.